Malin, comprensibili comunque, si hanno nominato cercando di far capire che il giocatore si era protetto il viso Carlini parte, tiro, gol, gol, gol di Carlini, esplode 11 minuti nella ripresa, palla che spiove, carambole tiro e gol, veramente un gran bel gol agilità e abilità si fa luce poi il lancio di Deferm verso Emmers, si libera per il tiro, Emmers segna Emmers va al raddoppio ed è un bel gol